Ciao amici e amiche! Oggi è un giorno pieno di sorprese nel mondo pinipon! Abbiamo un sacco di bustine a sorpresa! Le apriremo insieme e scopriremo un sacco di personaggi pinipon! Mi aiutate? Dai, iniziamo! Nelle bustine a sorpresa ci sono i pinipon con delle magliette che mostrano il tempo! Fantastiche! Dai, prendiamo questa! La apriamo, vediamo un po'! Che emozione! Chissà cosa c'è dentro! Da questa parte, che cosa c'è? Il fogliettino della collezione, una bustina con gli accessori e un personaggio dei pinipon! Vediamo qual è! Bellissima! Abbiamo trovato il personaggio della pioggia! Stupenda! La maglietta è fantastica! Come vedete c'è l'immagine della pioggia! E poi ha anche un cartello delle previsioni del tempo! Glielo possiamo mettere qui nella mano! Aiutatemi a metterle gli accessori che ci sono nella bustina! La borsetta qui nella mano, questo fiorellino tra i capelli e questi due li mettiamo da parte per la prossima volta! È bellissima! La mettiamo qui con le previsioni del tempo qui davanti! Prendiamone un'altra! Vediamo un po' che personaggio troviamo! Prendiamo... questa! La apriamo! Vediamo un po' cosa c'è dentro! Il catalogo! La bustina degli accessori! Vediamo un po' che pinipon c'è qui! Wow! È stupenda! È la ragazza del tempo incerto! Sole e nuvola! guardate che bella maglietta! E qui c'è il cartello del tempo! Stupenda! Vediamo che faccia qui dietro! È proprio contenta! Sono certa che le piace un sacco indossare questa maglietta ai giorni di tempo incerto! E adesso prendiamo gli accessori! mamma mia! Questa borsa è fantastica! E con questo fiore sarà ancora più bella! Dai, mettiamogliela qui! E per le trecce questo bel fiocchetto da questa parte! E dall'altra questa molletta! Che carina! E il cartello del tempo dove lo mettiamo? Facile? Qui nella mano! Perfetta! Questo accessorio lo mettiamo qui per la prossima volta! Dai, cerchiamone un'altra! Ecco, apriamo questa! Il catalogo! La bustina degli accessori! E vediamo un po' chi c'è dentro! Oh, è il bambino del vento! Magnifico! E guardate che bella maglietta! Vediamo un po' che faccia c'è da questa parte! Che sorriso! È simpaticissimo! E qui ci sono i suoi accessori! Ne abbiamo un sacco! Gli mettiamo questo diamante sulla cintura! Guardate che bello! E nella borsa tracolla mettiamo questo orsetto! Dai, mettiamogliela! Vediamo come gli sta! Bellissimo! È contentissimo il nostro ragazzo del vento! Mettiamolo qui con i suoi amici! E questo accessorio lo conserviamo per dopo! Dai, adesso questo! Vediamo chi c'è! Il catalogo, gli accessori! E guarda un po', c'è la ragazza della neve! Cerchiamo il corpo! Ah, eccolo qui! Guardate che bella! Ha il cartello della neve! E anche sulla maglietta! Che carina! Adoro la neve! E vediamo dall'altra parte che faccia... che simpatica! Ci fa l'occhiolino! E ora scopriamo che accessori ci sono nella bustina! Ma per prima cosa le mettiamo il cartello qui sulla mano! Guardate ragazzi, una borsa forma di orso! E qui dietro mettiamo un cuoricino! È fantastico! Mettiamola qui sul braccio! E questa rosa tra i capelli! Questo accessorio è sulla cintura! Vi piace? A me piace un sacco la ragazza della neve! Mettiamola qui con gli altri amici! E adesso quale prendo? Vediamo! Questa! Vediamo chi c'è! Oh guardate! Un altro personaggio della pioggia! Così posso abbinarla all'altra! La metto qui! Ne apro un altro! Vento! Benissimo! Ne abbiamo due! Mi posso inventare un personaggio mischiando i pezzi! Mixis Max! Abbiniamo la pioggia e il vento! Per prima cosa li smontiamo e poi li mischiamo! Ecco qui! E facciamo lo stesso con questo! Lo smontiamo così! Perfetto! Dai! Prendiamo questa maglietta e la combiniamo con questa bella gonnellina! Ci sta benissimo! E mettiamo questa faccia simpatica così! Bellissima! E qui le mettiamo questi capelli lunghi! E siccome piove le mettiamo il cartello qui sulla mano! E degli accessori di prima prendiamo una bella farfalla! Che carina! E poi possiamo fare un'altra combinazione con le cose che ci sono avanzate! Mettiamo qui la maglietta! Mettiamo la faccia! Questi capelli! E qui le previsioni del tempo! E come accessorio li mettiamo questo arancione! Benissimo! I pinipon mi piacciono un sacco perché posso mischiare pezzi e inventare nuovi personaggi! Adoro la mia nuova collezione dei personaggi pinipon! Mischiare è fantastico! È la cosa che mi piace di più! E a voi? Se vi è piaciuto mettete un like e scrivetemi nei commenti! Ma soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così vi avvisiamo quando c'è un nuovo video! Alla prossima!